Il Maniva, davanti noi troviamo il Dosso Alto, a metà montagna come potete vedere c'è la mulattiera di guerra che partiva da Malga Cionella bassa o ex caserma, saliva e andava in diagonale, poi faceva tutte le zetta e arrivava su Cionella alta e poi Dosso Alto che era della zona militare del posto, qui avanti adesso arriveremo all'ex caserma della Cionella.